Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di Excel. Iniziamo oggi con la terza parte di questo corso. Praticamente quest'oggi inizieremo a fare un approfondimento sulle formule più utilizzate all'interno di Excel e che tutti noi dovremo conoscere per poter iniziare ad utilizzare al meglio questo strumento. Inizieremo con i concetti base, quindi andremo a vedere come funzionano le basi delle formule. Abbiamo già visto qualcosina con i valori assoluti e la somma, i stringhe extrai, eccetera, però oggi approfondiamo un po' meglio il concetto di costruzione di una formula. E nel mentre andremo a vedere anche le istruzioni media, mediana, moda, min e max. Bene, passiamo al file di esempio. Eccoci qua. Allora, abbiamo tre file, abbiamo tre schede in basso che ci fanno vedere un po' tutto come funziona e sulla sinistra abbiamo sempre praticamente la spiegazione descrittiva se vorrete andare a leggerla. In descrizione al video trovate per gli abbonati la possibilità di scaricare questo file e fare esercizio offline oltre a vedere quello che ovviamente vi propongo in questo video. Allora, vediamo un po'. Qui che cosa c'è? C'è la somma, la sottrazione e la moltiplicazione sono cose che praticamente abbiamo già fatto nel senso che noi facciamo il segnetto dell'uguale, andiamo qui, prendiamo questa cella, facciamo più quell'altra cella e ecco che noi otteniamo il risultato, qui abbiamo la risposta. Adesso io trascino verso il basso, anzi mettiamo i valori assoluti come abbiamo imparato, quindi entro nella formula qua su e ci faccio un bel F4, così aggiungo i valori assoluti. Facciamo anche qua i valori assoluti, così adesso quando io andrò qui e andrò a trascinare in giù la formula lui mi manterrà sempre la selezione su queste celle. Adesso al posto del più andiamo a metterci il meno, così abbiamo fatto la sottrazione, andiamo a metterci la moltiplicazione, così abbiamo fatto una moltiplicazione e se facciamo lo slash verso destra, che è shift tasto 7, andiamo a fare la divisione. Ma vediamo che qui c'è anche la potenza, quindi noi possiamo appunto andare a fare anche la potenza delle formule, come si fa appunto sempre allo stesso modo, quindi noi ci possiamo prendere ad esempio questa formula qua, ok, e al posto dello slash possiamo andare a metterci praticamente premendo il tasto maiuscoletto e la I accentata, così compare il simbolo della potenza. Se guardate è scritto anche qua, quindi l'I accentata è quello che sta praticamente vicino all'invio grosso sulla tastiera. Facendo il segno di questo simboletto qua, praticamente noi facciamo l'elevazione alla potenza, tant'è che se noi andiamo qua e abbiamo praticamente il, se noi andiamo a vedere la formula, C3, quindi questa qui, elevata al quadrato. Se noi abbiamo il 2 qui ovviamente diventerà un 4, se abbiamo E3 elevato al quadrato diventerà 9, quindi ecco che con pochi semplici operatori possiamo fare delle formule già che possono essere molto interessanti. Però scendiamo sulla parte sotto e andiamo a vedere come funziona questa parte. Allora vedete, quindi abbiamo il riferimento di cella, l'operatore e il riferimento di cella come abbiamo appena visto. Poi se noi vogliamo fare la somma avevamo visto, ok, che se noi vogliamo fare la somma dell'intervallo andavamo a prendere la funzione e davamo l'argomento con i due punti. Quindi che cosa significa? Che se noi vogliamo andare a fare la somma di questo intervallo, scriviamo somma, come vedevamo anche all'inizio delle prime lezioni, selezioniamo l'intervallo e chiudiamo la parentesi tonda. Vediamo che praticamente qui lui che cosa ci mette? I due punti. Quindi nel momento in cui noi facciamo l'invio, lui seleziona questo intervallo, ok? Ma se noi vogliamo selezionare questo intervallo e anche questo intervallo, come possiamo fare? Sotto vedete che praticamente noi abbiamo la funzione dove viene utilizzato il punto e virgola. Quindi funzione, apriamo la parentesi tonda, prendiamo l'argomento, quindi mettiamo il primo intervallo separato dalla cella di partenza alla cella di destinazione con i due punti e poi prendiamo il secondo intervallo separandolo con un punto e virgola. Quando noi mettiamo il punto e virgola andiamo a separare praticamente gli intervalli e poi ripetiamo la stessa procedura. Quindi se andiamo qui e faccio un bel punto e virgola qui, ok? All'interno della formula somma, io posso fare punto e virgola e gli dico guarda, prendimi anche quest'altro intervallo qua. Ecco che poi, che cosa succede? Quando io vado a fare punto e virgola, ecco che lui mi fa la somma dei due intervalli. Ovviamente avrei anche potuto dirgli somma, ok? Mi prendi questo intervallo, chiudo, premo il tasto più e gli dico ancora somma e prendo l'altro intervallo. Però vedete che se andiamo a vedere il risultato, questa è più semplice. Se andiamo nell'altra vedete che è più lunga e non c'è un limite degli intervalli. Noi possiamo andare qui, quando vogliamo aggiungere un nuovo intervallo vedete che lui anche qui lo suggerisce, numero 1, numero 2, numero 3 sono gli intervalli. Quindi basta separare con il punto e virgola per proseguire con un ulteriore intervallo. Bene, adesso passiamo alle funzioni di media, moda e mediana. Eccoci qua, allora, sempre sulla sinistra la descrizione e il link verso i siti della Microsoft per fare ulteriori approfondimenti, ma qua abbiamo gli esercizi. Allora, vediamo subito come funzionano per capire bene il discorso. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente tre tabelline che sono, quattro tabelline che sono praticamente uguali. Abbiamo praticamente questa qui dove facciamo la media. Abbiamo due modi per fare la media. Andiamo qui, scriviamo uguale, scriviamo media, ok, come vedevamo con la somma, e ci prendiamo ad esempio l'intervallo e facciamo così. Allora, qui ho scritto io la formula, però possiamo fare anche in un altro modo. Se noi andiamo su nel menu OM, qui vedete c'è questo simbolo qua con la E. Se noi andiamo qua, noi possiamo fare diverse funzioni. Ad esempio troviamo la somma, la media, il contanumero, anche il min e il max che vediamo alla fine. Ma in ogni caso, se noi premiamo media, lui riconosce già l'intervallo che sta sopra di lei e cerca di fare una media. Se avessi avuto dei numeri in orizzontale, quindi, anzi facciamo pure anche un esempio, quindi ci prendiamo ad esempio questi valori qua, facciamo un bel incolla speciale, trasponi, così li orizzontalizziamo. Se andiamo qui e premiamo media, ecco che lui riconosce che la formula va fatta in orizzontale. e quindi lui scrive direttamente la media senza che noi andiamo a scrivere nulla, con un semplice click. La mediana è il moda che cosa fa. Praticamente la media ovviamente fa la media dei valori e noi qua giù in basso vediamo appunto che c'è media, conteggio e somma. Quando noi selezioniamo un intervallo di numeri, lui sotto fa sempre in automatico la media, il conteggio e la somma. Così possiamo sempre vedere che cosa rappresenta questo intervallo di numeri con questi tre risultati. La mediana fa una cosa diversa, quindi se vediamo mediana fornisce il valore mediano del set di dati. Ok, quindi se noi andiamo qua e scriviamo mediana, vediamo che cosa succede mediana, ok, e ci prendiamo l'intervallo di dati e chiudiamo la tonda, ci dà 55 e vediamo che la media però era 59 perché appunto mediana fornisce il valore mediano del set di dati. Quindi lui analizza tutti questi dati qua e lui dice guarda il valore mediano di questo intervallo qua è 55. Se io qua vado a metterci 40 ad esempio, lui dice guarda il valore mediano di questo intervallo è 40. Se ci metto 5, ok, è sempre 40. Se ci metto 0, è sempre 40. Se metto un altro 0, è sempre 40 perché lui interpreta che questo è il valore che rappresenta la mediana di questo intervallo qua. Quindi è sempre uno dei valori che stanno dentro a queste celle qua. Eventualmente per approfondimenti ulteriori sulla mediana potete fare una ricerca su Google oppure approfondire ulteriormente sul sito della Microsoft che è appunto posto sulla sinistra. La moda A fornisce invece quello con più occorrenze, questo forse è un po' più semplice anche da comprendere. Quindi qui vedete che ci sono sempre questi numeri qua. Qua sicuramente andrà a restituire il 40, si vede già a colpo d'occhio. Moda, ok. Ci prendiamo l'intervallo. Chiudiamo la tonda e ecco che lui ci dice 40 perché 40 è quello che ha il doppio intervallo. Se io qua ad esempio ho un doppio intervallo uguale, ok, vedete, lui vede per primo il 60 perché viene per primo sull'ordinamento dell'intervallo. Anche se 60 è ripetuto due volte come 40, lui dà la precedenza al primo. Tant'è che se metto 40 e 40 sopra, 60 e 60 sotto, lui mi dà il 40. Quindi attenzione quando utilizzate il moda A, nel caso in cui ci sia la parità, quello che vince sul risultato è quello che sta più a monte. Se ad esempio qua facciamo 40, 60, 40, ok, vedete che dà sempre 40. Quindi lui controlla proprio il numero che sta più in altro tra tutti quando c'è la parità di vittorie, insomma, sulla ripetizione delle occorrenze. Anche qua per ulteriori informazioni eventualmente potete fare riferimento al sito della Microsoft o a Google. Ok, eccoci al min e al max. Allora, apparentemente è tutto semplice perché ovviamente noi andiamo qui, facciamo min e selezioniamo l'intervallo. Ecco che noi praticamente ci siamo andati a fare il minimo di questo intervallo. Piuttosto che andiamo di qua e utilizziamo dal menu home la funzione che c'è qua su, ci facciamo un bel max e lui rileva in automatico l'intervallo. Però proviamo ad applicare quello che praticamente abbiamo già imparato, praticamente ipotizziamo che noi vogliamo fare un or, ok? Quindi vedete sotto c'è il suggerimento, ci prendiamo direttamente la formula, ok? Quindi se noi andiamo qui e ci facciamo un bel uguale e facciamo praticamente il minimo di questo intervallo, quindi di 10, di 14, ok? Che è appunto la colonna 10 che va dal 10 al 14. Oppure, ok, perché qui quando facciamo la somma, ok, se prendiamo due intervalli sommiamo le due somme, i due intervalli. Quindi se mettiamo il punto e virgola diventa 1 pure, quindi facciamo il minimo che c'è tra questo intervallo e questo intervallo qua, oppure questo intervallo qua, ok? Quindi lui seleziona appunto i due intervalli e ci fa il minimo tra i due intervalli che ipoteticamente sono i quali mettiamo 10, ok? Diventa 10, la stessa cosa con il max. Però c'è una cosa interessante perché noi possiamo utilizzare anche il secondo parametro con un solo valore scritto qui, dove praticamente, vedete che se qui si va a fare il max di questa cosa qua, noi prendiamo la formula, la mettiamo qua, lui che cosa fa? Fa il massimo di questo intervallo e poi ci mette 1 pure G15, ok? Se noi lo facciamo così, ok, contiene un valore soglia, praticamente G15, questo qui che abbiamo selezionato che è il singolo, non è stato selezionato nessun valore, lo possiamo utilizzare come valore soglia, quindi come 60 che è questo, ok? Nel qual, caso la formula non restituirebbe mai, un risultato inferiore a 60, perché ovviamente ne facciamo il max, in questo caso di questo intervallo e di questa cella qua. Però fatto in questo modo, vedete, è scorporato dal nostro intervallo e quindi questo lo utilizziamo come valore soglia, in modo tale che noi non vogliamo mai ottenere un risultato che sia inferiore a 60, perché questo è il nostro intervallo di soglia. Tant'è che se io qua scrivo 50, ok, il valore di soglia è 60 e quindi lui si fermerà sempre a 60. Quindi se sopra abbiamo un intervallo che può variare, però noi dobbiamo impostare una soglia, questo è il trucchetto per fare la soglia, perché ovviamente quando noi andiamo a mettere il punto e virgola, non è che per forza di cose dobbiamo sempre dare un intervallo, possiamo anche dare una cella singola. Ok, direi che con questa lezione è tutta, come sempre se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se volete scaricare il file o avere visioni in anticipo di tutte le lezioni che vado a pubblicare nel mio canale, sempre senza attendere l'attesa della programmazione e l'uscita quindi della lezione, magari abbonatevi anche al canale. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!